Eccoci qua davanti ai laboratori di Sound Machine come al solito per presentarvi l'ultimo lavoro effettuato su questa bellissima Dune Buggy qui abbiamo l'autoradio, abbiamo realizzato una serie di supporti, questo che vedete tra i due sedili posteriori molto bello per alloggiare il subwoofer separando i due sedili posteriori, la macchina è matricolata a quattro posti e sfido a portare persone di più di 30 kg sui due sedili posteriori qua dietro abbiamo creato questi due supporti per alloggiare un sistema a due vie, eccolo qua che lo vediamo anche meglio da qua qua abbiamo un supporto per il medio basso anteriore e il posizionamento dei due tweeter adesso mentre Tiziano riprende il motore di questa bellissima Dune Buggy io vado a farmi un giro alla prossima Giorno, 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 Giorno